Allora oggi vediamo insieme un estratto del contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau. Abbiamo visto prima il saggio sull'origine della disuguaglianza, abbiamo visto come ci sia un'accusa di Jean-Jacques Rousseau nei confronti della nascita dello stato di guerra di tutti contro tutti, stato che nasce in seguito all'affermarsi della proprietà privata. Jean-Jacques Rousseau ha messo in luce come la disuguaglianza sociale e politica sia figlia della storia, sia figlia di avvenimenti storici, sociali e politici. Ora ci presenta il tema del contratto sociale, cioè del nuovo patto che deve superare il patto iniquo obesiano, che deve superare anche il patto politico di Locke, un patto di natura democratica, una democrazia totale, quella di cui ci vuole parlare Jean-Jacques Rousseau, la democrazia della legge, la democrazia della comunità, la democrazia del primato dell'Assemblea pubblica dei cittadini su ogni forma poi di delega e di rappresentanza. Vediamo insieme questo estratto. Abbiamo anche il sottofondo musicale. Jean-Jacques Rousseau ci dice che il nuovo stato sociale che deve nascere non deve più fondarsi sulla disuguaglianza dei membri, bensì deve fondarsi sulla uguaglianza, cioè sulla reciprocità, una reciprocità tra eguali. Dunque il contratto sociale, che come tutti i contratti prevede l'alienazione della sovranità individuale ad un nuovo sovrano, ebbene tale contratto si deve fondare su un'alienazione di tutti gli associati, nessuno escluso, di tutti i diritti ma tutta la comunità, cioè tutti gli uomini che diventeranno cittadini, tutti, nessuno escluso, nessuno al di sopra poi della legge, nessuno al di sopra del potere politico, nessuno al di sopra della comunità, tutti devono alienarsi, ma devono alienare tutte le loro libertà, tutti i loro diritti, nessuna libertà, diritto escluso, a chi? Alla comunità. Fuori dalla comunità politica che nasce non deve esservi nessuno, al di fuori della futura legge non vi deve essere nessuno, e soprattutto nessuna libertà non deve essere alienata alla comunità. Vuol dire che a differenza di Hobbes e di Locke, la comunità che nasce si prenderà tutte le libertà e tutti i diritti e poi deciderà di tutelarli, garantirli, ridistribuirli, riproporli attraverso la legge. Secondo Jean-Jacques Rousseau è la legge politica, sociale, morale, che educa, forma, costruisce i cittadini che dà libertà ed uguaglianza. Al di fuori della legge ci sono privilegi, al di fuori delle leggi ci sono prevaricazioni e la legge che stabilisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che si deve e non si deve fare, quali sono i diritti e quali sono le libertà, ma lo stabilisce per tutti, nessuno escluso, cioè nessuno può stare al di fuori di questo nuovo patto che si deve stipulare. Dunque il contratto sociale che deve rovesciare il contratto iniquo-belziano, il contratto sociale che deve progettare, costruire uno stato sociale, politico, civile, improntato alla democrazia, deve essere un contratto sociale, un patto di libertà ed uguaglianza e coinvolge tutti i cittadini, perché se la condizione è uguale per tutti, nessuno può sentirsi svantaggiato o avvantaggiato. La celeberrima uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Lo stato di diritto prevede che non vi sia nessuno legibus solutu, sciolto dalla legge, al di sopra della legge. Tutto è dentro la legge, la legge può legiferare tutto, ma nel momento in cui legifera tutto coinvolge tutti i cittadini, anche quando la legge stabilisce delle eccezioni, devono essere delle eccezioni motivate dall'interesse generale, dalla volontà generale, deve essere un'eccezione motivata, giustificata nel nome della libertà, dell'uguaglianza e dell'interesse della comunità. Non deve essere un'eccezione privilegio. Vi faccio un esempio. Se io decido che, appunto, quando c'è la terza prova, un ragazzo che è DSA o che ha una disabilità o ha una diversabilità, ha mezz'ora di tempo in più o meno domande, non sto facendo un'eccezione privilegio, ma sto facendo un'eccezione che deve garantire libertà ed uguaglianza di tutti. In questo caso la persona ha bisogno di più tempo o ha necessità di meno domande. Perché? Perché la sua condizione è diversa da quella di un altro, ma deve essere uguale, dunque, il suo diritto a svolgere la prova come tutti gli altri, altrimenti non sarebbe uguaglianza. Se io faccio una corsa sui 100 metri, ok, ma non tengo conto dell'età, non faccio correre chi ha 18 anni con chi ne ha 5 e con chi ne ha 90, non tengo conto dell'allenamento, non tengo conto dell'alimentazione e dell'operazione, non basta dire che siamo partiti tutti dallo start e dobbiamo fare 100 metri. Quella è la falsa uguaglianza, è l'uguaglianza dove faccio io correre un uomo con un ghepardo, con una tartaruga. Ah, li ho messi tutti al punto di partenza, allo stesso punto di partenza, e poi ho dato il via, mi ho fatto correre, competere, un uomo, ok, un ghepardo e una tartaruga. Non è quella l'uguaglianza, è chiaro? L'uguaglianza è che tutti ne entrano a far parte della comunità in questione, ma poi dentro la comunità la legge stabilirà i diritti di libertà e di uguaglianza. Questo Jean-Jacques Rousseau nel contratto sociale ce lo dice, la condizione deve essere uguale per tutti, se uno è fuori dalla legge può ricavare dei vantaggi dalla legge, è chiaro? Se uno è fuori dalla comunità può ricavare dei vantaggi dalla comunità, la comunità deve includere tutti, la legge deve riguardare tutti, è chiaro? Questo è il contratto sociale di Rousseau, un patto in cui tutti sono entrati a far parte della comunità. Di più, ci dice, facendosi l'alienazione senza riserve, cioè essendoci alienati senza riserve, l'unione è perfetta per quanto può essere e nessun associato ha più niente da rivendicare, perché se restasse qualche diritto ai singoli, non essendoci alcuno superiore comune che potesse pronunciarsi tra loro e il pubblico, ciascuno essendo su qualche punto il proprio giudice pretenderebbe ben presto di essere tale su tutti, sicché lo so di natura persisterebbe e l'occasione diverrebbe necessariamente tirannico-vana di più. Se noi ci alieniamo senza riserve, creiamo un'unione perfetta, cioè una omogenità, perché più nessuno ha nulla da rivendicare. Invece, se io aderissi alla comunità, mi alienassi, entrassi nella comunità, alienassi per perdere i diritti naturali, entro nella comunità, preservando qualche diritto naturale, polemica ad esempio con Locke, dice che la proprietà privata e la libertà di parola è naturale, io mi riserverei dei privilegi. Ma allora, Russo è contro la proprietà privata, è un comunista ed è contro la libertà di parola, è dunque un assolutista? No, lui ci vuole dire che quando si entra nella comunità tutti devono perdere tutte le presunte libertà naturali, le quali poi, libertà, non più naturali, diventeranno politiche perché le emana la legge. Tutte le libertà devono passare attraverso la legge. Se invece entro nella comunità dicendo ma io porto con me questa libertà naturale, anche quando una libertà può sembrare positiva, io porto dentro la comunità delle persone che sono diverse per natura. Lui corre più veloce, lui è più forte fisicamente, lui è più alto, lei parla meglio, lui ha saputo lavorare in maniera più veloce. E allora queste diversità, se io me le porto dentro il patto, dentro la comunità, faranno sì che io, nel momento in cui sono entrato con delle riserve, con delle mie libertà naturali, rivendicherò queste libertà queste particolarità dentro la comunità politica, allora io dirò ma siccome io so parlare meglio, allora io sono adatto a fare l'avvocato, il medico o a fare il politico, poiché io sono più forte, poiché io sono più alto, poiché io sono più veloce, poiché io ho più muscoli, allora io queste libertà naturali che voglio che vengano ribadite qui, mi sento diverso dagli altri, su quel tema lì io divento tiranno. se io dicessi, al suono della campanella, valgono le libertà naturali nell'andarsi ad accaparrare il cibo al bar, cioè non varrà più, io salgo le scale senza correre, senza spingere, senza saltare, tutto, vale tutto le libertà naturali che avevate, ma allora chi è più veloce è arrivato primo, si prende il cibo e l'altro non se lo prende, ok, quello che ha spinto, quello che ha buttato giù dalle scale, quello che sa saltare, o un domani ci fossero dei superpoteri, quello che sa attraversare i muri, il diritto invece dice che, in quei minuti, facendo la coda, rispettandosi il turno, ci sarà la possibilità di fare colazione, a prescindere dal fatto che io abbia sedotto il barista, abbia minacciato il barista, abbia picchiato quello che è prima di me, se io garantisco dentro la comunità dei diritti naturali, quali ad esempio la forza, io potrei insinuare, inserire dentro la comunità politica dei vantaggi che diventano tirannie, la tirannia del più forte, la tirannia del più bello, la tirannia del più ricco, se stabiliamo che chi è ricco può avere un avvocato di difesa, perché le cose le puoi comprare in base alla ricchezza, la ricchezza è naturale, perché io ho più proprietà di un altro, e la proprietà privata è naturale, allora poi chi ha proprietà privata sono più ricco, no sono più ricco, mi posso pagare l'avvocato, mi posso difendere, e non posso invece pagarmi l'avvocato, non mi difendo, no, l'avvocato va garantito a tutti al di là della ricchezza, l'istruzione un domani andrà garantita a tutti al di là della ricchezza, questo ci sta dicendo Russo, padre della democrazia in questo, che la legge è uguale per tutti, e tutti sono uguali, e lasciano fuori dalla porta della comunità le loro libertà naturali, perché le libertà naturali sono, è stupendo questo passaggio complesso, può anche essere pericoloso, sono pericolose in democrazia, perché le libertà naturali possono diventare poi elementi di tirania, di privilegio, di sopruso, ovviamente i gius naturalisti attaccheranno anche Russo, dicendo però così tu rischi che la legge vada a togliere libertà naturali, come hanno poi fatto i Giacobini, i Robespierre, o un domani forme di democrazia autoritarie, che in nome dell'uguaglianza e libertà imposta per legge hanno tolto delle libertà e delle forme di uguaglianza, questo è il grande problema che solleva Russo, ma Russo, lo stiamo discutendo ancora oggi, perché è un grande, gli autori giganti, i grandissimi autori sono quelli che fanno discutere anche dopo la morte, sono quelli che fanno sia ancora oggi che ci possiamo dividere su Russo, Russo padre della democrazia, padre della libertà d'uguaglianza o padre della democrazia autoritaria, padre quasi di esperienze poi politiche che vanno verso l'autoritarismo democratico, cioè l'imposizione con la forza della legge, è qua, ci sono elementi di Russo e dei Giacobini in tutte le democrazie, ma ci sono elementi di Russo e di Giacobini anche nelle dittature, perché il tema della democrazia, della comunità, della legge, della volontà generale che stiamo vedendo sono temi spinosi, sono temi complessi. E' chiaro, fate pure domande, il proprio giudice, nessuno è giudice di se stesso, ok? Nessuno, non scendo dall'automobile, ok? Dico, ma guarda, devo passare io, perché? Ma perché ho la macchina più grossa, è chiaro? Perché sono l'avvocato tra i dettagli, perché sono l'ambulanza, attenzione, la comunità stabilisce che l'eccezione è data all'ambulanza, data alle macchine della polizia se hanno la sirena, però se la macchina della polizia è la sirena perché il poliziotto sta portando sua figlia al corso di ginnastica ritmica e quel poliziotto non può mettere la sirena per bypassare il traffico per portare sua figlia. E' chiaro, così va là, perché il parlamentare se sta andando a giocare in una sala di videopoker non potrà per arrivare in orario l'appuntamento con gli amici al bridge mettere. Può metterla in alcuni casi, quegli alcuni casi lo rendono comunque libero uguale come gli altri perché sono delle eccezioni contemplate dalle libertà dell'uguaglianza, non sono delle eccezioni contemplate dall'interesse privato. Ecco che sono tutti i temi di oggi. E' chiaro? Perché se tu con la carta di credito eventuale conti correnti del Comune di Torino di Ancona, Ascoli, Napoli o Milano fai delle spese private e non è che puoi legittimarle come bene pubblico. Sono un appropriarsi in maniera indebita delle cose comuni. Dopodiché tu puoi avere un conto corrente del Comune di Torino e ci puoi mettere le mani dentro e non io che non sono un assessore o meno. Ma quello non è un privilegio, è un accesso che tu hai alla cosa pubblica che ti dà il tuo ruolo, il tuo incarico dentro il rispetto della legge. Ok? Dunque, dunque, nessuno può essere giudice di se stesso. La legge giudica e il magistrato fa rispettare la legge, altrimenti c'è privilegio arbitrio. Infine, ciascuno dandosi a tutti non si dà a nessuno e siccome non c'è associato sul quale non si acquista lo stesso diritto che gli si cede su noi stessi si guadagna l'equivalente intero di ciò che si perde e più forza per conservare ciò che si ha. Nel momento in cui tutti cedono tutto e cedono tutto a tutta la comunità non si è ceduto qualcosa a qualcuno ma si è ceduto l'intero all'intero e dunque io dice Rousseau come associato è più quello che ci guadagno perché l'intero a cui tutti noi ci siamo assoggettati dovrà tutelare gli interi che alla comunità intera si sono assoggettati la comunità che è figlia di un'alienazione di tutti gli uomini ad essa non potrà poi tutelare soltanto alcuni della comunità a discapito degli altri perché la comunità è il tutto a cui tutti sono sottomessi e la comunità ha il dovere se non lo fa ci saranno dei magistrati che dovranno intervenire ci sarà la legge che punirà ragazzi la legge deve stabilire che tutti siamo uguali e chi non vi che non rispetta la legge chi viola la legge dovrà essere sanzionato perché la legge non tutela quelli che hanno i capelli ricci quelli che hanno la carnagione chiara quelli che hanno le gambe di un metro e cinquanta va bene la legge è uguale per tutti vuol dire che dentro la legge vige l'uguaglianza di tutti e le differenze devono essere giustificate in nome dell'interesse pubblico dell'interesse generale pertanto la comunità tutela tutti e la comunità è tanto più forte quanto tutti ci sono subordinati ad esse quelli che i sostenitori dei regimi particolari dove ci sono dei privilegiati danno vita tendenzialmente a delle istituzioni politiche delle comunità politiche di stampo clientelare mafioso corrotto vale per le dittature vuol dire che i partiti danno più favore al membro del preto che al potere militari generali mafiosi fascisti dirigenti comunisti o la democrazia quando c'è una democrazia corrotta o c'è un regime assolutista o c'è una dittatura e non c'è l'uguaglianza ci sono dei privilegiati sei mafioso sei privilegiato sei iscritto al preto fascista sei un privilegiato sei dentro la razza aliana sei privilegiato sei dentro l'uomo bianco sei privilegiato sei dentro quel partito che sta occupando le istituzioni dove c'è totalitarismo dittatura assolutismo dove c'è corruzione criminalità dove ci sono dei gruppi che non cedono le proprie libertà all'intero dove l'intero non è tale perché fatto di tanti gruppi privilegiati lì non c'è libertà non c'è uguaglianza non c'è democrazia è l'abc della democrazia qua è russo se dunque si esclude il patto sociale ciò che non fa parte della sua essenza si troverà che esso si riduce ai termini seguenti ciascuno di noi mette in comune la sua persona tutto il suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale e noi tutti in corpo riceviamo ciascun membro come parte indivisibile del tutto dunque ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale nella nuova comunità nel patto sociale di russo tutti i cittadini si sottopongono alla volontà generale che è superiore alla volontà particolare la volontà particolare deve conformarsi alla volontà generale c'è la volontà generale della quarta BL e la volontà particolare di Federica Michele di Chiara di Gaia devono armonizzarsi con la volontà generale se non si armonizzano perché hanno pretese di particolarismo di superiorità esse vanno superate vanno tolte la volontà generale guida la comunità non la volontà particolare perché se sono le volontà particolari a fare l'orizzonte politico cosa ne è della comunità? ci dice russo che la volontà generale è ciò che produce di fatto un corpo sociale coeso e noi riceviamo protezione e forza dalla volontà generale perché siamo parte di un corpo sociale che è tutt'uno che è unito la democrazia liberale è in parte diversa da quella di cui ci parla Rousseau da quella di Sede Rousseau perché per Locke noi siamo dentro una comunità ognuno portatore dei propri diritti che la volontà generale comunitaria politica totale non può mai prevaricare invece per Rousseau la volontà generale deve saper indirizzare le volontà particolari e se la volontà particolare di l'oro danneggia la volontà generale la volontà particolare loro deve essere ricondotta a quella generale Rousseau in questo non è un liberale democratico non è figlio della tradizione di John Sebastian Locke non è poi figlio di quella tradizione liberale inglese olandese o americana è un teorico della libertà collettiva dell'uguaglianza nella libertà la libertà nell'uguaglianza cioè è difficile ragazzi Rousseau quando studierete voi troverete sempre più facili Hobbes e Locke Hobbes l'assoluto Locke in giuro lo Stato ha un limite oltre il quale non può andare quello dei diritti naturali invece Rousseau vi dice noi facciamo un patto ci uniamo tutti e produciamo un corpo sociale unico questo corpo sociale unico va bene unitario a cui tutti noi ci siamo alienati ha la sovranità assoluta cioè una volontà generale la quale volontà generale che è nelle mani dei cittadini ok deve fare in maniera assoluta indissolubile unica l'interesse generale della comunità e lo esercita attraverso dei delegati che vengono nominati va bene per rispondere alla volontà generale la volontà generale della quarta BL nomina questi sei delegati questi sei delegati rispondono alla volontà generale della comunità intera se non la rispettano vengono rimossi ma la volontà generale ve lo ripeto non coincide con la volontà della maggioranza vuol dire la volontà generale cioè della comunità e quell'elemento lì che non vuol dire della maggioranza è un elemento molto ambiguo in russo che vuol dire la volontà generale e la volontà della comunità dell'interesse della comunità che a volte le maggioranze non possono anche capire ma allora nasce il problema chi è che stabilisce quella volontà generale il corpo sociale il corpo comunitario la comunità anche una minoranza russo dice e a volte ci possono essere delle minoranze che all'interno del corpo sociale unitario capiscono e colgono quale sia la vera volontà generale della comunità e questo ci può portare a delle esperienze di democrazia autoritaria o democrazia elitaria di democrazia imposta con la forza come l'esperienza di Maximilien Robespierre andiamo in chiusura immediatamente in cambio della persona privata di ciascun contraente questo stato di associazione produce un corpo morale collettivo composto di tanti membri quanti voti l'assemblea l'assemblea è fatta da tutti i cittadini maggiorenni maschi sta immaginando di Ginevra benissimo questa assemblea ok questa assemblea è un'associazione che diventa un corpo morale collettivo stabilisce cos'è giusto cos'è sbagliato e questa assemblea produrrà le leggi le leggi dentro le quali noi eserciteremo le nostre libertà le leggi stabiliscono fino a quando la nostra libertà può essere esercitata e dove essa viene meno ma è la legge a stabilire se siamo uguali perché ve lo ripeto ragazzi se non ci fosse la legge ok politica civile ci sarebbe quella naturale ti direbbe Locke ma la quale ha la debolezza del fatto che il più forte fisicamente il più ricco o quello con più muscoli quello che nella giungla sono di natura dominava ti schiaccia e la legge se io stabilisco una legge so che voi dite giustamente in questo periodo anche in casa di crona che mai mi voglio fare giusto da me se vengo a casa mia sparo va bene discutiamo per me non va bene ma ragioniamoci ma attenzione la legge vuole provare a normare questo perché se tutti pensano di poter sparare per farsi giustizia da sé si arriva in quello che storicamente si vuole il fair west ok perché io pensavo che lui è entrato a casa mia ho pensato che lui si è entrato a casa mia non per prendere quel pallone non perché voleva rubare un fiore non perché era un vagabondo perché volesse svaleggiarmi ammazzarmi allora li sparo capito io metto delle nor e poi la cosa è diversa sono a casa mia c'è una persona che entra mi sta immobilizzando con la pistola ho entrato mi vuole rapinare io ho sparato tante casistiche che la legge vuole provare a normare perché altrimenti se io dico quando una persona è nella mia proprietà io posso sparare io stabilisco che a un certo punto tutti possono sparare quando uno è nella tua proprietà ma perché sei nella mia proprietà perché sei entrato a casa mia ok per rubare è una cosa ma per rubare la mano armata è un'altra cosa per rubare per sequestrar una persona per rubare la mia automobile sono anche cose diverse è chiaro se la legge vuole normare queste cose molto complesse non perché non vuole darci la libertà ma perché vuole proteggere la libertà la libertà di non essere appunto uccisi perché ognuno vuole farci da sé allora ci cominciamo sparare nelle vie è chiaro perché se tra due vicini non ci sono delle norme a un certo punto io sparo perché l'altro ha la musica troppo alta se non ci sono delle norme noi rischiamo di arrivare a leggi tutti contro tutti la legge garantisce la libertà secondo Jean-Jacques Rousseau questo corpo sociale da unità produce un io comune produce una volontà unica e la volontà unica secondo Rousseau è il corpo sociale e noi dovremmo immaginarlo eventualmente in Parlamento quando c'è in democrazia da noi la nostra democrazia è indiretta non è diretta come l'immagine Rousseau il 4 di marzo nell'elezione lì si manifesta la volontà generale nella sua forza potremmo dire la quale delega dei parlamentari dicevo prima però è poco simile a Rousseau perché Rousseau ti parlarebbe di una volontà generale che è sempre un corpo sociale unico che dà potere ma revoca quel potere cioè dà dei delegati nomini dei delegati perché eserciti una volontà generale invece qui si nomina dei rappresentanti che possiamo sfiduciare in maniera indiretta che possiamo controllare in maniera estremamente indiretta dunque è la democrazia nostra su cui il controllo dei cittadini è molto molto più limitato c'è proprio dei controlli attraverso la corte funzionale attraverso i giudici magistratura attraverso il TAR attraverso tanti corpi intermedi che possono garantire la nostra libertà è chiaro ma il corpo sociale unitario è un blocco unico dice Rousseau questa persona pubblica la volontà generale che si forma così di noi e di tutte le altre prendevo un'altra volta il nome di città oggi prende il nome di repubblica o corpo politico il patto prodotto un tempo si diceva città città comunali le città stato ora diventa la repubblica la repubblica di Ginevra sta immaginando o corpo politico il quale è chiamato dai suoi membri stato lo stato e l'unione di tutte le singole particolarità che si sottopongono però e sottomettono la volontà generale e il quanto è passivo sovrano e quanto attivo è potenza quando siamo membri siamo passivi dello stato ma quando diventiamo sovrani siamo potenza nei confronti dei suoi simili lo stato è ok io sono passivo verso lo stato quando sono membro di esso e subisco ma sono attivo perché faccio parte di uno stato che produce sovranità che emana leggi dunque noi siamo attivi e passivi al contempo nello stato siamo passivi perché siamo membri ma noi siamo attivi perché ci stiamo subordinando alle leggi che ha fatto chi? lo stato che è nato attraverso l'unione nostra dunque noi ci uniamo corpo sociale ci cediamo a terzi questa sovranità lo stato ma di questo stato a cui cediamo la sovranità noi ne facciamo parte dunque noi a chi ci assoggettiamo? a? noi stessi e la democrazia noi ci assoggettiamo alle leggi comunali ordinanze che ha fatto la giunta ma chi ha eletto i consigli comunali? noi dunque noi ci assoggettiamo a chi abbiamo eletto noi ci assoggettiamo il 4 marzo a chi eleggiamo cioè in parte a noi stessi questo sarebbe il trucco della democrazia perché noi non subiamo i parlamentari o il governo noi eleggiamo i parlamentari che nominano appoggio in un governo dunque noi indirettamente ci assoggettiamo a noi stessi per Rousseau è direttamente perché non c'è un parlamento ma ci sono dei delegati sempre rimovibili è chiaro? riguardo gli associati essi prendono collettivamente prendono il nome collettivo di popolo e si chiamano particolarmente cittadini noi siamo il popolo democrazia è sovranità potere al popolo particolarmente cittadini in quanto partecipi dell'autorità sovrana e sudditi in quanto siamo sottomessi le leggi è l'ambicida della democrazia ve lo rispiego e chiudiamo la video lezione siamo cittadini in quanto fondiamo il corpo sociale siamo cittadini in quanto votiamo i nostri rappresentanti o nel caso di Rousseau nominiamo i delegati dunque siamo partecipi all'autorità sovrana perché il codice delle leggi civile e penali le hanno scritte i parlamentari che noi abbiamo eletto dunque noi siamo partecipi della sovranità ma siamo anche sudditi perché quella sovranità che abbiamo contribuito a creare è quella che norma le nostre vite che norma il nostro essere cittadini dunque noi siamo da un lato sovrani e da un lato sudditi dunque noi siamo democrazia soggetti che detengono la sovranità e che la cedono protempore limitatamente per poi riprendersi nelle elezioni per poi riprendersi sull'antireferendum o nel caso della democrazia di Rousseau non la cediamo mai ok perché abbiamo sempre la possibilità di rimuoverla noi sulla carta vi ripeto attraverso il referendum abrogativo possiamo sempre abrogare le leggi emanate del Parlamento sempre che la nostra richiesta sia conforme alla Costituzione ovviamente dunque non possiamo chiedere di abrogare una libertà religiosa non sono abrogabili i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino dei diritti umani della nostra Costituzione e sanciti la Costituzione è chiaro dunque noi siamo al contempo cittadini sudditi questa è la lezione del contratto sociale di Rousseau